Allora oggi vi presentiamo, vi ripresentiamo, perché questa vettura qua la trovate già in un video che abbiamo pubblicato un po' di mesi fa. Questa nello specifico è una BMW 320 con motore diesel nel modello GT, quindi è una macchina che in Italia o in Europa diciamo non ha avuto un grandissimo successo, per quello che mi sono documentato un attimo è una macchina che ha avuto un successo molto più allargato in Cina ad esempio, nei paesi del sud est asiatico evidentemente diciamo è più adatta al gusto di questi paesi, in Italia se ne vedono ma non tantissime. Vabbè detto questo il cliente ha voluto pian pianino, noi abbiamo già fatto appunto la puntata precedente dove avevamo montato il sound booster perché essendo una vettura diesel il cliente ha voluto modificare sound con il nostro sistema Max House, dopo casomai vi facciamo sentire il risultato. Avevamo iniziato a livello di appendici alcune modifiche, nello specifico avevamo fatto appunto gli specchietti, avevamo fatto il muso anteriore che è questo con la lama anteriore in carbonio e la parte del radiatore che è questa qua e ci eravamo fermati più o meno a questo livello. Adesso il cliente ci ha chiesto di fare un ulteriore upgrade perché piano piano anche a livello economico le cose si fanno un pochino per gradi, anche per come dire gustarsi le cose e non tutte assieme. Quindi abbiamo proseguito con le appendici esterne sempre in carbonio, queste arrivano dalla Cina fra l'altro perché in Europa è difficile trovarle ed è carbonio vero, adesso qui dal video non so se si riusciva a vedere ma è carbonio vero veramente molto molto ben fatte, devo dire pezzi eccezionali. Quindi abbiamo fatto le due minigonne laterali, abbiamo sostituito, questo è lo spoiler posteriore retrattile che si alza a una determinata velocità, quindi abbiamo tolto quello originale che ovviamente era verniciato nello stesso colore della carrozzeria e montato, anche questo direi che è un pezzo molto di pregio, cioè il fatto di vedere la trama del carbonio così si capisce subito che carbonio vero non è una una pacciugata come teoricamente lo fanno in Cina avrei detto è una cinesata, no no questo qui lo fanno in Cina una volta tanto hanno fatto una cosa fatta decentemente, no più che decentemente questo è fatto veramente molto molto bene. Poi abbiamo modificato il dam posteriore, abbiamo sostituito i due, questi sono unicamente i due terminini di scarico con il logo M e all'interno del motore questo è il sistema pedal booster che va come dicevo a interagire con la risposta del pedale acceleratore, quindi questa macchina aveva fatto, questo già precedentemente, la rimappatura della centina elettronica, ha un aspetto particolare che il cliente ha portato la vettura in assistenza, in BMW la macchina non è più in garanzia però l'ha portata in assistenza e in assistenza gli hanno fatto, senza dire nulla, gli hanno fatto un aggiornamento software, quindi gli hanno praticamente cancellato quello che era il lavoro che avevamo fatto precedentemente e quindi adesso abbiamo dovuto ricaricare il file che avevamo sviluppato la volta alla volta scorsa perché la macchina tra il file modificato e il file stock c'è una differenza tale che proprio il cliente per me essere abituato con il file modificato e torna ricaricamela subito perché non riesco ad andare in giro così, quindi questo è uno degli aspetti dove soprattutto BMW e Mini quando uno le porta in assistenza anche fuori garanzia hanno l'abitudine di fare senza dire nulla di fare un aggiornamento software, magari per cambiare due o tre parametri a livello di parametri legati al controllo dei gas di scarico, cose minime però vi resettano tutto quello che è stato fatto precedentemente e non vi dicono niente chiaramente, ve lo fanno pagare, quindi questo abbiamo ripristinato la parte diciamo elettronica, questo sistema qua va a completare, va a togliere via quel lag che tutte le macchine hanno in partenza, adesso l'ultima cosa vi faccio sentire appunto il sound ecco come avete sentito ecco un sound del genere è impossibile replicarlo andando a sostituire parti dello scarico per due motivi perché se io vado a togliere parti dello scarico così come potrebbe succedere per un benzina così come facciamo spesso sulle vetture a benzina avremo un timbro basso il timbro del benzina è un timbro alto e soprattutto andremmo a mortificare le prestazioni perché sul diesel andare a togliere o decomprimere la linea di scarico inevitabilmente mi sposta la curva di coppia in alto quindi è un lavoro che noi sconsigliamo di fare o uno si tiene la macchina così oppure se uno per questioni appunto soggettive anche in questo caso ripeto la soggettività di utilizzare questo sistema è di competenza assolutamente del cliente noi ne montiamo tantissimi evidentemente questo tipo di prodotto incontra il gusto dei clienti poi ci sono alcuni detrattori che non lo condividono ma ripeto il mondo è bello perché vario e poi le macchine sono dei clienti non sono dei di coloro che vanno a criticare ricordiamoci sempre bene questo piccolo ma fondamentale concetto detto questo direi che anche in questo caso abbiamo detto tutto io vi inviterei a chiamare in sede per qualunque tipo di esigenza mi trovate sempre da lunedì al venerdì 027383175 quello che mi invitiamo a fare è consultare il nostro sito perché è un sito molto completo dove al di là delle spiegazioni che io faccio tutte le volte praticamente tutte le spiegazioni le trovate scritte catalogate per singoli interventi e la cosa interessante andatevi a vedere un po di schede nell'archivio elaborazione ce ne sono più di 3500 lì vi potete fare veramente una cultura su tutto quello che abbiamo fatto quantomeno dal 2011 in avanti mancano 7 8 mila schede dal da quando è stata aperta l'attività fino al 2011 comunque diciamo che 3500 fanno già un bel numero per il resto direi è tutto vi saluto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti